Dopo l'addio che sta di arrivederci di mister Renato Cioffi a Laudax ne arrivano altri due, il massimo dirigente Pasquale Dragone ha consegnato il titolo sportivo all'amministrazione comunale del sindaco Caterina Lengua. Con una lunga lettera il presidente della Laudax però si dice pronto a ripartire, qualora non ci fossero acquirenti, e di riprogrammare un nuovo campionato del massimo camminato regionale di eccellenza, ma per il momento c'è un classico di trofront. Anche il DS ex apice Silvio Maione, in attesa che laudax ristabilisca i suoi piani societari, resta in attesa ma per il momento preferisce attendere. Dragone vorrebbe rilanciare il calcio definitivamente nella Valle Caudina, ma quel che tiene banco è la questione stadio. Le istituzioni stanno lavorando per migliorare ancora di più il Canada Cioffi. Ora è ufficiale, Roberto Filarmonico ha lasciato la guida della Virtus Avlino Santo Stefano. Il trainer di Serino va a caccia di nuovi stimoli. L'Era Clea è vicino al colpo Yeboa, la punta ganese che ha trascinato la Sanese in Dì a suon di gol. Ora è pronto a scrivere una bella pagina di storia anche a Candela. Yeboa non sarà l'unico colpo per mister Di Corcia. arriverà un'altra punta protagonista qualche stagione fa in Degapro con la maglia della Nocerina e questo è l'indizio che il club ha lanciato per i tifosi.